Inaugurata presso l'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi di Perugia, una sala espositiva promossa dalla Agenzia delle Accise Dogane Monopoli, in collaborazione con il Comando Carabinieri Forestali dell'Umbria e con il sostegno della società aeroportuale SASE. Una mostra in difesa del Made in Italy e contro la contraffazione. All'interno di alcune teche sono stati esposti dei reperti di reato sequestrati nel tempo dai funzionari ADM insieme ai militari della Guardia di Finanza, a seguito di operazioni condotte sul territorio di Perugia, ma anche in Toscana e Sardegna. Oggetti contraffatti che rappresentano un danno economico non solo al Made in Italy e ai consumatori, ma che possono rivelarsi nocivi per la salute pubblica. Tra i reperti un orologio Rolex recentemente sequestrato proprio all'aeroporto di Perugia, un toner per stampanti sequestrato a Spoleto, un posacenere Versace al porto di Livorno, nonché accessori delle più importanti case di moda colpite dal fenomeno della contraffazione. Una teca è stata invece dedicata a oggetti realizzati con parti di animali a rischio di estinzione, beni sequestrati a seguito di controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale di specie tutelate dalla Convenzione di Washington. Il piccolo museo, a seguito del protocollo di intesa raggiunto nelle scorse settimane tra l'ADM e l'Ufficio Scolastico Regionale, ospiterà a rotazione un'opera degli studenti dei licei artistici Umbri.